Buono mondo, come va? Spero tutto bene. Oggi vi presento il mio nuovo giocattolo che è arrivato ieri ed è finalmente un accessorio che aspettavo perché con questo posso fare tantissime cose che diciamo prima era un po' più difficoltoso. L'Osmo Pocket 3, creator combo, lo apriamo insieme e poi vi dico anche il nome che ho deciso di dargli e c'è tutta una storia dietro. Do sempre il nome ai miei, diciamo, giocattoli e quindi intanto andiamo ad aprirlo. Vediamo un po' quello che c'è dentro. Perché ho deciso di prendere l'Osmo Pocket 3? Io non sono un tecnico quindi non mi vado a dilungare tanto sulla parte, diciamo, di video, immagine. No, io sono molto più pratico e quindi fondamentalmente l'investimento anche per il canale per l'Osmo Pocket 3 è che quando io esco a fare i video naturalmente mi devo portare più attrezzi. Quindi immaginate che io registro o con il telefono come in questo momento e quindi mi porto dietro lo stabilizzatore o mi devo portare dietro i microfoni, il cavalletto. Quindi diciamo che sempre con me devo portare una borsetta, una borsa con i vari accessori, quindi i vari prodotti, le varie telecamere, naturalmente ho il drone con me. L'Osmo Pocket 3, essendo così minuto, per me diventa semplice averlo sempre dietro con me, tirarlo fuori, estrarlo e registrare. Ma la cosa che effettivamente mi ha dato, diciamo, la convinzione di acquistarla è che era dotato anche di microfono. Quindi il microfono che si connette, vediamo qui come si apre. Sono talmente emozionato che non mi riesco mai a capire. Eccolo qua. Quindi, qual era la cosa? È che praticamente portando dietro con me tutta l'attrezzatura diventa sempre una sorta di viaggio. Mentre con questo riuscirei a essere estremamente agile e scattante, non solo per i video lungo le coste e le spiagge, ma prossimamente inizierò anche a fare riprese e video per quanto riguarda locali. Ho un sacco di amici locali che mi hanno detto perché non vieni e fai vedere un po' quello che si mangia qui nell'isola di Forteventura. Con questo non mi dovrò portare tutta l'attrezzatura per i vari locali. Allora, intanto l'ho aperto. Tiriamo fuori la prima busta dove c'è dentro l'astuccio. Diciamo che non è ingombrante. C'è una zip. E andiamo a vedere. Allora, intanto ci sono i vari adattatori. Allora, questo è la base dove poi sotto si può collegare il Type-C, l'attacco dei Type-C. La batteria. Quindi l'estensione della batteria che si può sempre andare a collegare sotto lo small pocket. La cosa bellissima e importante che è, secondo me, quel qualcosa in più rispetto magari ad avere la telecamera, la fotocamera, è naturalmente la possibilità di metterlo su treppiedi e di poterla appoggiare. Abbiamo il microfono, quindi posso andarlo a collegare qui tranquillamente e finalmente posso andare, diciamo, senza avere grossi problemi, soprattutto qui c'è il vento. Il, diciamo, il cappuccio qui che serve per togliere ulteriormente il rumore del vento, perché qui, come sapete, a Forte Ventura c'è sempre vento e quindi avendo questo, diciamo, questa sorta di di pelliccia. Non so come si chiama tecnicamente, ma so che serve per togliere il rumore del vento. E, finalmente, andiamo qui, abbiamo il l'Osmo Pocket 3. Lo vado a vado a togliere il sigillo, lo vado ad accendere, diciamo che si accende in maniera rapidamente, non è pesante in mano, questa è la cosa anche estremamente bella per chi naturalmente gira e vuole e vuole naturalmente essere immediatamente pronto per andare a riprendere. Tante volte mi è capitato che avevo la possibilità di andare a vedere alcuni tramonti o alcune zone o alcuni locali e non avevo con me l'attrezzatura proprio perché non sempre esco con l'attrezzatura dietro di me. è veramente bellissimo, devo dire che non pensavo anche a livello di materiale. Adesso vediamo al nome, che nome ho dato, che nome do a questo gioiellino. Bene, ci ho pensato tutta la notte, devo dire che io sono molto fissato su queste cose e ho deciso di dargli il nome Calipso. Il nome Calipso è in riferimento naturalmente alla ninfa Calipso. Calipso è praticamente per chi ha letto l'Odissea, è una ninfa che viene praticamente spedita in un'isola remota perché è figlia di Atlantide che ha provato a fare le scarpe a Zeus e quindi questa figlia viene praticamente mandata in questa isola deserta e ha la sciagura che i naufraghi che arrivano lei si innamora e poi dopo qualche anno o anche dopo qualche settimana loro se ne vanno e la lasciano lì finché a un certo punto arriva Odisseo. Odisseo arriva dopo che ci ha avuto tutte le svolture del mondo con la nave che viene distrutta da una tempesta muoiono tutti i marinai che erano con lui tranne Ulisse che arriva viene soccorso da Calipso e si innamora perdutamente si innamora perdutamente di Odisseo i due da quanto si legge stanno sull'isola per sette anni e alla fine Ulisse però decide di tornare a casa perché era innamorato della moglie che cosa succede? Che da questo diciamo questa storia d'amore di sette anni nascono comunque dei figli chi dice uno chi dice due chi dice tre ma comunque il figlio da principale quello più importante si chiama latino latino poi è diventa uno dei precursori del popolo italico e quindi anche antenato di Romolo e Revolo e quindi della nascita di Roma e quindi io penso che un nome più importante e più importante di Calipso che vuol dire anche nascondere sia adeguato per questo questo giugino qui questo bel giocattolo quindi cercheremo io e Calipso di portarvi in giro per l'isola di Forte Ventura e di scoprire invece che di nascondere tutto quello che c'è sull'isola alle persone che arrivano qui spesso le persone si innamorano di quest'isola o delle persone di quest'isola ma poi gran parte di loro sono destinate a tornare a casa e quindi io do un benvenuto a Calipso spero di testarlo anzi sicuramente in questo fine settimana lo testeremo in giro per le varie mie avventure e quindi io vi mando un saluto un abbraccio vi saluto anche Calipso e ci vediamo alla prossima ciao ciao aspettate fermi 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 perché questa ve la devo raccontare il prezzo della creator combo Osmo Pocket se andate a vedere io adesso lo vado a vedere su internet Osmo Pocket 3 prezzo di listino sta a 679 679 euro naturalmente con le tasse che ci sono naturalmente in Europa l'iva in Italia è intorno al 22 se non sbaglio anche in Spagna ma essendo residente Canario e avendo una tassazione agevolata praticamente io l'ho pagato molto di meno quindi il prezzo tra invece di pagare il 22% ho pagato il 7% di tasse poi c'era un piccolo sconto con un piccolo Govorn io ho pagato l'Osmo Pocket e penso che siamo in pochi soprattutto in questo momento di lancio e di Natale l'ho pagato la bellezza di 582 euro quindi quasi 100 euro di meno questa è la tassazione del 7% come potete vedere e quindi qui alle Canarie soprattutto queste cose qui e con prezzi un po' più alti hanno una diciamo una tassazione molto agevolata e quindi si risparmia parecchio detto questo posso salutarvi io adesso inizio un po' a giocarci con Calypso vediamo un po' se anche io e lei ci innamoriamo per tanti anni spero di sì vi mando un saluto e ci vediamo alla prossima ciao ciao